Entro la fine del 2022 il Consiglio Comunale di Barletta discuterà sulla possibile collocazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale della BAT a Palazzo San Domenico e quanto emerso dall'incontro tra il prefetto Rossana Riflesso e il presidente della provincia Bernardo Lodispoto, il sindaco di Barletta Cosimo Cannito e il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe Silipo. Al momento all'interno dello storico palazzo all'incrocio tra Corso Cavour e Corso Garibaldi sono stati completati gli arredi per una spesa di circa 100.000 euro sostenuta dalla provincia BAT. Resta però da comprendere a chi spetterà l'investimento di circa 300.000 euro per la realizzazione di alcuni interventi necessari per rendere agibile e utilizzabile l'immobile, compreso l'impianto di riscaldamento e raffreddamento. Interventi che dovevano essere portati avanti grazie a un finanziamento non più disponibile, ora spetterà a Comune e o a provincia mettere mano al portafoglio per coprire i costi. Di questo discuterà la massima assise comunale, il tutto in attesa anche della nomina che pari avverrà in tempi brevi del direttore del nuovo ufficio scolastico, il cui riconoscimento del Ministero dell'Istruzione è arrivato nello scorso mese di aprile anche grazie ad un emendamento della manovra finanziaria presentato dal senatore di Forza Italia Dario Damiani. Ad oggi insegnanti e personale ATA della BAT fanno riferimento agli uffici di Bari e Foggia con l'apertura dell'ufficio scolastico provinciale, dunque finalmente dopo un decennio sarebbe servita un'area che conta circa 400.000 abitanti.